Lui è Janky! Buonasera, allora uno, due e tre, sacca panza maestro, eccola qua. Ho un salsolino nella scarpa, hai, che mi fa tanto tanto male, hai, batto il piede in giù, lo batto in su, giro e mi ritiro, sembro per il tempo. Piano, piano, devo camminare, passo, passo, mi devo fermare, sono molto, sono tornato, sì. Quello di otro salsolino che sta dentro qui, che d'allore, questo salsolino, salsolino, lino, il salsolino, il salsolino, il salsolino è una battuta. Peppa, un saluto alla mia mamma, la Maria Perego, e adesso, via le orecchie, parliamo normale, e beh guarda, parliamo normale, salve io volo, scusate perché non sono un invitatore, sono un medium. Un medium, cioè, chiamo gli artisti di un certo livello e del passato, tipo Aldo Fabrizi, non so quanti di voi lo conoscono. Oddio, 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 paolo, va bene, oddio, che... Ma va, va, stavo bagnando... Ma che mi chiami a far tutte le volte? vuoi entrare questo milanese oh milanese ma come ti dico a Milano a Giacchi ma va a morire ma ha dei ciappi e quindi a questo punto oh no oh Dio ma scusate entra e esce quando vuole grazie è finito? è finito tutto